Se il cronoprogramma dei lavori sarà rispettato, nella primavera del 2020 Francavilla al mare potrà finalmente inaugurare il suo porto. I lavori per la realizzazione dell'infrastruttura attesa da oltre 10 anni che prevede 95 approdi per imbarcazioni dai 7 agli 11 metri sono stati appaltati alla nuova Oceano Sorca di Trani e inizieranno a fine estate per non intralciare la stagione balneare. L'importo necessario per il completamento dei lavori, finanziato dal Cipe, pari a un milione di euro e servirà a dragare porto e avamporto e a realizzare la viabilità portuale, quella della banchina per gli ormeggi, l'impianto elettrico, idrico e antincendio. Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al mare, cosa cambierà per Francavilla con questa importante infrastruttura? Cambierà molto perché questa zona viene completamente restituita alla città ma soprattutto viene rivalutata. Un approdo per piccole imbarcazioni, comunque un centinaio di imbarcazioni, anche un'area a terra dove ci saranno servizi, dove sarà il punto di approdo del ponte che collegherà la pista ciclopedonale nord alla ciclopedonale sud, già in fase di progettazione. Quindi questa è una zona che verrà rivalutata a fini turistici ma anche ai fini del miglioramento della qualità della vita dei francavillesi. Un lungo percorso, iniziato dall'elezione nel 2011 quando ho trovato quest'opera sequestrata dalla Procura della Repubblica, ho ottenuto il dissequestro, ho ottenuto un primo finanziamento regionale dalla giunta di Luciano D'Alfonso per 2 milioni e mezzo. Abbiamo, come vedete, completato l'infrastruttura nella parte essenziale. Ci hanno messo a disposizione, sempre la stessa giunta, tramite il Cipe, un altro milione di euro che, finalmente, notizia di questi giorni, abbiamo potuto utilizzare e quindi affidiamo i lavori già alla stessa ditta che li stava terminando. Di qui a settembre, perché abbiamo preferito non ripartire per non rovinare la stagione estiva, abbiamo preferito ripartire a settembre, quindi da settembre qualche mese di lavoro, io penso quattro mesi, e l'opera sarà finalmente ultimata. A tutto questo si andrà ad aggiungere anche una risistemazione, diciamo così, di tutta l'area che fa capo, diciamo, alla Force dell'Alento, perché ci sarà anche il ponte sull'Alento che poi collegherà i due tratti di pista ciclabile nel territorio comunale di Francavilla al mare. Sì, nell'ambito dei finanziamenti europei, Bike to Coast per la pista ciclabile, abbiamo ottenuto un milione e otto di finanziamento per il ponte, che sarà un'opera magnifica e ora è in fase di progettazione. E poi c'è la sistemazione anche del fiume, non ci dimentichiamo, quel del quale ci stiamo interessando con il genio civile. Diciamo che questa zona tornerà a splendere, finalmente, dopo tanti, tanti anni e sarà un vero punto di attrazione per l'intero Abruzzo. Grazie.